Apriamo il collegamento con il secondo tempo della sfida Young Boys contro Arsenal, recupero della prima giornata del triennio under, risultato 2 a 2, il rinvio di Guarino, pallone per Marigliano, spalla la porta, Petrone su di lui, arriva Tonacci, ruba palla, ma in questo Young Boys si sente tantissimo la mancanza del fenomeno, Giannone, una presenza doppietta per lui, caccia subito Celestino e lo beffa e 3 a 2 il risultato, l'Arsenal passa in vantaggio, con la sorpresa dunque di Celestino che mette fuori causa, Andrea Sposito in porta che magari stava sonnicchiando, Celestino, Birilli, ancora lui, palla dentro, aggancia Mendola che addirittura va a ripiegare per salvare i suoi, Petrone, destro in avanti, non trova nessuno, Celestino, prova ad andare, col destro, palla fuori, calcio d'angolo, Celestino, ancora lui, poker d'assi come sempre, segna sempre lui, 4 a 2 per l'Arsenal, non si ferma mai, Celestino, Tonacci ha la battuta, 4 a 2 il risultato, Tonacci all'incrocio, Guarino, palla che rimane lì, Guarino all'incrocio, grandissima conclusione di Tonacci, straordinaria risposta del portiere dell'Arsenal, il lancio di Celestino in avanti, Esposito, in anticipo, poi Tonacci cerca ma non trova compagno, arriva Kakashi, anzi era Marigliano, poi Kakashi in avanti, Albero chiude, occhio a questo pallone in area di rigore, Esposito subisce un fallo, Esposito il lancio in avanti, Mendola cerca spazio, la trattenuta di Dorta, fallo, punizione, Petrone, Petrone, col destro, Barriera, Petrone, contro Marigliano, Petrone prova a farlo secco, parte Petrone, numero, poi Celestino, ma c'era fallo di Marigliano su Petrone, Petrone col destro, Guarino in qualche modo, evita il peggio, poi arriva Mister Vivo, sulla sfera, salta il suo avversario, ancora Vivo, prova a lanciarsi, occhiato a Mendola, si gira, entra in area, prova ad andare contro Limongello che però ruba palla, Kakashi parte, in velocità sulla sinistra, Kakashi rientra, Albero in chiusura, poi Vivo, prova ad andare, Dorta sulla sfera, Vivo viene chiuso, allora Celestino allarga di là, verso Marigliano, prova col sinistro, Esposito riesce a uscire e rinviare, poi a Mendola, spalla la porta, buono l'aggancio, De Falco sulla sfera, il rinvio di De Falco, palla fuori, palla fuori di Celestino, a Mendola, attenzione, palla in avanti, De Falco, Guarino, Petrone, Tonacci, ancora per Petrone, ruba palla a Marigliano, prova ad andare a Marigliano, all'indietro per Dorta, che sbaglia, a Mendola, Bobbadiglia, il bomber, a Mendola, 4-3, prova a riaprirla, lo Young Boys con il bomber a Mendola, Celestino, col destro, raso terra sul fondo, palla per Marigliano, non aggancia, palla che scorre sul fondo, rimessa affidata ad Esposito, parte Esposito, attenzione, spacca in due la partita, Esposito, non va, Guarino, pasticcio, tutto da ripetere, il rinvio di Guarino, poi un ripallo, Marigliano sulla sfera, spalla la porta, Marigliano, attenzione, Petrone riesce a uscire, poi Tonacci, di nuovo Petrone, Petrone finta, arriva Marigliano, poi Dorta, subito un calcio da Marigliano, si continua, palla per Cacace, rientra, Cacace, affronta la difesa dello Young Boys, Cacace, Petrone su di lui, c'è calcio di punizione, punizione Arsenal, va Celestino sulla sfera, attenzione al suo destro, barriera a due, ma Esposito è proprio dietro la barriera, Celestino, respitto, Dorta col destro, Andrea Esposito, poi Guarino rinvia, prende il pieno il suo compagno, vivo, fitta, gran numero, vivo, Sbaglia perché perde un brutto pallone, ma c'è fallo di De Falco, Esposito, prova lui col destro, De Falco respinge, poi Marigliano, arriva, Petrone, occhio a suo destro a giro, fuori, palla lunga, Celestino la domestica, Mendola su di lui, scontro tra Bomber, finisce giù, fallo, prova subito, Limoncello, la blocca, Esposito, allora Tonacci, controllo, poi all'indietro, occhio a vivo, col destro vivo, fuori, albero in avanti, palla per Amendola, la spunta per Esposito, chiude De Falco, Esposito allunga, De Falco, con le vecchie maniere, vivo, tocco all'indietro, rinvia albero, palla che rimane lì, Esposito la raccoglie, Esposito prova a partire, Celestino su di lui, Amendola, tocco all'indietro sbagliato, Celestino, Tonacci è vivo, riconquistano la sfera, Esposito si lancia, palla fuori, sarà rimesso laterale per Young Boys, con Esposito, palla per vivo, Amendola, col destro, fuori, Guarino, studia i suoi compagni e poi sbaglia tutto, Esposito raccoglie il passaggio di Amendola, prova a calciare, Tonacci però sulla traiettoria, De Falco poi fa un balletto molto strano e lascia uscire, Celestino a campo, Albero su di lui, Celestino, il pallone per Kakache, la chiusura di Albero, da ultimo uomo, straordinaria, Kakache palla dentro, salta Esposito, poi Amendola, non arriva, poi la conclusione di Dorta, preso in pieno Esposito, Celestino mette giù, arriva Esposito, poi Petrone in avanti, Dorta lascia scorrere, Celestino prova a partire, attenzione, arriva Albero, poi la scivolata di Esposito, ci fallo, Celestino va col destro, barriera, poi De Falco raccoglie, prova lui, De Falco, poi Marigliano, attenzione Petrone contropiede, vivo, cerca Amendola, Bobbadiglia prova, Guarino con la mano, poi Guarino lascia Celestino, tocco in avanti, diventa praticamente un tiro Esposito, controlla, prova ad andare, Kakache chiude Albero, la rimessa, è per l'Arsenal, occhio al rimpallo, Guarino blocca la sfera con sicurezza, Tonacci, prova, ancora Tonacci per vivo, spalla la porta, la carica di De Falco, c'è fallo, Tonacci, prova col destro, Guarino, vola, calcio d'angolo, calcio d'angolo, va Tonacci, palla dentro, morbida, saltano, Amendola è Esposito, Amendola prova a riprendere palla, la chiusura di Kakache, vivo, con le mani, per albero, mette giù, prova, rinvio di De Falco, attenzione, vediamo Esposito, che la mette giù e sbaglia tutto, Celestino, non c'è il portiere, palla per Kakache, prova ad entrare in aria, la spinta di Kakache, fallo,